Vittoria per la Virtus Bologna in casa contro il Valencia, nell'Eurolega, una vittoria convincente. I ragazzi guidati da Ljungberg, Schenghelia e Hackett hanno gestito la partita nel modo giusto contro un avversario sicuramente forte, con anche tiratori da tre importanti come Pangos. Indubbiamente è una partita gestita bene dall'inizio, dove anche nel momento di difficoltà, grazie anche a una buona percentuale sui tiri liberi, è riuscita a mantenere comunque sempre il distacco che l'ha portata alla vittoria finale e la rilancia in pieno per le prime dal secondo e quinto posto, che è l'obiettivo minimo che può raggiungere la Virtus dopo l'ottimo inizio di stagione fatto in Eurolega e dopo le ottime prestazioni fatte fino a questo mini periodo di crisi che direi è stato superato in pieno ho visto anche la prestazione di ieri dove la palla è stata mossa velocemente, dove nei tiri da due si è riusciti comunque ad essere più incisivi del solito.